La procura di Bari ha chiesto il fallimento della società di trasporto Ferrovie Sud-Est. L'istanza depositata presso il Tribunale di Bari sarà assegnata nei prossimi giorni alla competente sezione fallimentare che dovrà valutarla. Stando agli accertamenti disposti dalla magistratura barese nell'ambito di un'indagine per peculato, abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni dello Stato, la società attualmente commissariata avrebbe accumulato fino al 2014 debiti per oltre 350 milioni di euro, importi che l'avrebbero portata al dissesto. I debiti sarebbero stati causati dalla vecchia gestione societaria e in particolare dal suo ex amministratore unico Luigi Fiorillo, attraverso sprechi e consulenze d'oro. L'istanza di fallimento apre infatti la strada all'ipotesi di reato di bancarotta a carico della vecchia dirigenza. Una doccia fredda per i commissari e per il ministro dei trasporti alle prese col passaggio a Ferrovie dello Stato, ma anche per i 1.300 dipendenti che finalmente iniziavano a tirare un sospiro di sollievo e che invece adesso devono nuovamente tornare a incrociare le dita. L'indagine della Guardia di Finanza è stata aperta dopo la relazione dei commissari di Ferrovie Sud-Est sulle spese tra investimenti e consulenze che negli ultimi anni avrebbero portato l'azienda quasi al crack. Nelle scorse settimane, nei confronti di quattro indagati, l'amministratore unico Luigi Fiorillo, gli avvocati romani Angelo Schiano e Pino Laurenzi e l'ingegnere Salentino Vito Antonio Prato, sono state eseguite perquisizioni e sequestri, il cui esito è ora al vaglio degli inquirenti baresi. Su questa vicenda è in corso anche un procedimento da parte della Corte dei Conti che nel giugno scorso ha disposto un sequestro conservativo per danno erariale per oltre 4 milioni e mezzo di euro. Nei confronti di Fiorillo e di altre 6 persone, la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio anche per un'altra vicenda relativa alla presunta truffa dei vagoni d'oro. L'udienza preliminare si concluderà il prossimo 25 ottobre. Un anno di immobilismo, di dolce far niente per arrivare alla chiusura dell'attività legislativa è imprimere una fretta incomprensibile per atti non urgenti, mentre si sforano i termini di approvazione di provvedimenti che, come il bilancio di assestamento, toccano sensibilmente la collettività. Lo dichiara il presidente del gruppo consigliare di Forza Italia, Andrea Caroppo. Sulla legge di riforma della governanza dei rifiuti, aggiunge Caroppo, il centro-sinistra è andato a testa bassa, determinando una profonda spaccatura istituzionale su un atto che invece richiedeva il massimo confronto, ancorché non risolutivo, della crisi dei rifiuti in cui versa la Puglia. Ma lì, riguardando un affascinante valzer di poltrone, Emiliano ha deciso di andare avanti sulla tabella di marcia senza distrazioni, salvo presentare due diversi disegni di legge sul tema nel giro di pochi giorni. Sul bilancio, invece, si va avanti con assoluta calma, non aprendo la sessione e perdendo ancora tempo. È una questione di priorità, conclude Caroppo, e i cittadini oggi sanno quale sia l'agenda dei lavori prioritari per il centro-sinistra pugliese. Le poltrone prima di tutto. Sulla questione interviene anche il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. I cittadini hanno diritto di sapere quale sconcio stia accadendo nelle stanze del Consiglio regionale. Il centro-sinistra ha deciso di non risolvere l'emergenza rifiuti e dunque non modifica il piano che ne è la prima e diretta causa. Dall'altro lato, però, vuole gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica, frettando una riforma utile solo ad Emiliano per scappare dalle sue responsabilità e che giova ai loro interessi politici per assegnare nuovi e costosi incarichi. Poi ci sono le questioni essenziali alle quali un legislatore responsabile dovrebbe rispondere con la massima sollecitudine. Quando si tratta di compiere il proprio dovere per la collettività, conclude Damascelli, sono in altre faccende affaccendati. Quando invece vogliono scaricarsi responsabilità o in gioco ci sono nuovi posti per dirigenti e amici, costringono il Consiglio a votare senza nemmeno il tempo di approfondire gli atti. Ci sono anche tre minorenni nel gruppo di cinque persone arrestate in Puglia dagli agenti di polizia in quanto ritenute responsabili di aver compiuto una rapina in un supermercato e alla organizzazione del colpo avrebbe partecipato attivamente una ragazzina di 13 anni. Gli arrestati sono un uomo di 37 anni, un giovane di 19 e tre minorenni accusati di rapina a mano armata in un supermercato a Palo del Colle. L'attività investigativa, condotta dagli agenti del commissariato di Bitonto, mirata a contrastare il fenomeno delle rapine ai danni di esercizi commerciali, ha permesso di individuare e fermare il gruppo subito dopo aver commesso il reato. Momenti di terrore ieri mattina lungo la provinciale Squinzano-Torre Rinalda. Un giovane, dipendente di un'attività commerciale di Squinzano, alla guida di un furgone è stato rapinato del mezzo rimanendo letteralmente a piedi. Il giovane è stato speronato da due malviventi a bordo di una Fiat Brava risultata rubata, con i volti coperti, uno dei quali è armato di una pistola ed è stato quindi costretto ad affiancare ai margini della strada. A quel punto uno dei due malviventi è sceso dall'auto e pistola alla mano ha intimato al conducente del furgone di consegnargli le chiavi e i soldi che aveva nel portafogli. Quindi si è messo alla guida del mezzo ed è subito ripartito in direzione nord, forse diretto verso la provincia di Brindisi, seguito dal complice nella Brava. Alla vittima della rapina non è rimasto altro da fare che avvisare le forze dell'ordine. A caccia dei banditi sono messi i carabinieri del Norm e della compagnia di Trepuzzi. Si tratta del secondo mezzo rapinato in poche ore. A Lecce, l'altra notte, il proprietario di una BMW Serie 1 è stato costretto a cedere l'auto ad un malvivente sbucato dal buio, mentre stava facendo carburante al self-service dell'area IP di Via Merina. Tragedia sfiorata nel Barese, dove un uomo ha fatto esplodere una bombola di gas provocando il ferimento di tre persone. L'esplosione si è verificata in una villetta incontrada Grotta Marallo, alla periferia di Gravina di Puglia. Per cause da accertare l'uomo di 41 anni, convivente con i genitori e già noto alle forze dell'ordine, si è barricato nella sua stanza da letto, portando con sé una bombola di GPL e minacciando di farla esplodere, sino a compiere il gesto. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, il padre avrebbe tentato di ostacolare le intenzioni del figlio, chiamando poi il 118 e i vigi del fuoco a esplosione avvenuta. Un gesto che ha prodotto la caduta dei tramezzi e dei muri divisori dell'immobile, senza causare problemi alla staticità della struttura. Il soggetto, con evidenti problemi psichici, è stato trasferito cosciente con un'ambulanza al policlinico di Bari, mentre i genitori e la sorella sono stati trasportati all'ospedale di Gravina di Puglia. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sono 237 imprese del settore turistico che ieri hanno ricevuto il riconoscimento del marchio di qualità, imprese salentine che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire ed ogni anno decidono di mettersi in discussione, sottoponendosi a delle valutazioni condotte dal personale esterno alle strutture stesse. Il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Alfredo Prete, nell'occasione si è complimentato con gli imprenditori, esortandoli a svolgere un ruolo di sentinella affinché soggetti che si improvvisano imprenditori non guastino il duro lavoro finora svolto, vanificando tutto ciò che di buono si è costruito negli anni. Il Salento sta crescendo, ha detto Prete, le presenze di giugno lo testimoniano, ma il bilancio bisogna farlo al 31 dicembre e non adesso, in maniera da avere tutti i numeri per un'attenta programmazione a medio e lungo termine, con l'obiettivo di diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica. Luigi Derniolo, presidente dell'azienda speciale per i servizi reali alle imprese, ha sottolineato che oggi è la qualità a indurre il turista a scegliere il Salento e anziché un altro territorio. Qualità però ad un giusto prezzo, non bisogna approfittare spennando il turista, ma nemmeno svendere il servizio che si offre. Il neosegretario generale Francesco De Giorgio ha aggiunto che uno dei motivi che l'hanno indotto a venire a Lecce, oltre alla vicinanza con Taranto, sua terra d'origine, è proprio la bellezza mozzafiato del territorio leccese. Ma la bellezza da sola non basta, occorre costruire un sistema con la logica del distretto, costruendo servizi in maniera integrata, promuovendo il territorio nella sua globalità e far sì che non prenda piede un turismo mordi e fuggi, ma un turismo che sia volano per l'intero Salento. Anche il sottosegretario a lavoro, Teresa Bellanova, ha espresso parole di elogio nei confronti degli imprenditori salentini che hanno saputo valorizzare e contribuiscono a far crescere il nostro territorio. E poi ha aggiunto che il Salento è molto ambito, ma spesso è alla ribalta per fatti negativi, come le case fantasma affittate da prenditori, li definisco così, soggetti senza scrupoli che organizzano truffe a danno di turisti o arraffano i soldi pubblici, dando un'immagine del Salento che non è quella reale. Ma ci sono i veri imprenditori, per cui è necessario più che mai far conoscere il vero volto del Salento. Per questo motivo volevo essere qui, ha aggiunto la Bellanova, nel momento in cui il vostro lavoro e l'impegno quotidiano viene premiato con il marchio di qualità. Voi siete le imprese virtuose, che offrite un servizio eccellente, che riconosce il valore delle persone. Avete scommesso sulla legalità e su tutto ciò bisogna puntare. La nostra terra ha molte sfaccettature e può offrire al turista un'offerta variegata. Il turismo balneare, religioso, termale e così via. Dobbiamo avere la capacità di creare uno sviluppo armonioso che coniughi il turismo in tutte le sue espressioni, anche con l'industria leggera. Nessuno da solo ce la può fare, ha concluso il sottosegretario Bellanova. Io sono qui a raccogliere le vostre esigenze e trasformarle in norme, laddove le norme sono necessarie. Ma voi siete gli ambasciatori veri della nostra terra, che fate parlare le persone quando vanno via. È un'accoglienza di qualità e la migliore pubblicità possibile. Alvia, l'istituzione del Codice Rosa nel pronto soccorso, assistenza clinica e psicologica prioritaria per i soggetti vittime di violenza e pazienti fragili. Lo ha annunciato ieri il direttore generale dell'Asla di Lecce, Silvana Melli, nel corso dell'ultimo comitato consultivo misto. Oltre a questa ci saranno anche altre iniziative, tese a caratterizzare il percorso di ristrutturazione dell'azienda nei prossimi mesi. Il progetto Codice Rosa partirà al Vitofazzi e a seguire sarà introdotto negli ospedali di primo livello collegati con la rete antiviolenza in fase di istituzione. In passato le politiche sanitarie erano progettate per durare nel tempo, ha spiegato la Melli. Oggi ci si rende conto che devono essere flessibili. Da ieri Lecce ha ufficialmente una nuova sede. È stato infatti completato il trasferimento nello stabile di via Colonnello Costadura a Lecce dalla sede di Piazza Mazzini che l'attuale dirigenza aveva ereditato dalla gestione Tesoro. Sarà una collocazione più confortevole e aperta ai tifosi che peraltro da ieri possono sottoscrivere l'abbonamento presso uno sportello appositamente adibito nella palazzina Due Piani. Nella nuova sede che sorge a due passi della centralissima via 25 Luglio e che si trova proprio di fronte alla villa comunale ci sarà anche la sala trofei e sarà possibile acquistare gadget e merchandising in uno spazio apposito. Intanto il direttore sportivo Meluso è a lavoro per consegnare a Mr. Padalino una formazione completa in ogni reparto. La trattativa per Giuseppe Torromino sembra essere a buon punto. L'attaccante esterno del Crotone avrebbe già raggiunto l'accordo. Restano però da smussare alcuni aspetti con la società calabrese. Il suo arrivo a Lecce rappresenterebbe per Padalino una valida opzione per tutto il reparto avanzato. Torromino infatti potrebbe anche essere la principale alternativa a Caturano oltre a rappresentare una delle pedine da schierare sulle corsie esterne. Tra i giocatori in partenza invece c'è il centrogampista De Feudis che non rientra nei piani della società ed è in attesa di sistemazione. Stesso discorso per Carrozza per il quale non sembra esserci un futuro in giallorosso così come per Camisa e Vinetot anche loro pronti a fare le valigie.